Per affermare un progetto di Europa unita, sociale e democratica, credo che ci sia bisogno tra di noi di dirci con chiarezza che bisogna però questa Europa cambiarla e riformarla. Sono troppe le diseguaglianze che si sono determinate. Noi che abbiamo inventato lo Stato sociale, i diritti nel lavoro, corriamo il rischio di passare alla storia come quelli che si sono inventati il fiscal compact e l'austerità. E i problemi nel nostro rapporto con i lavoratori nascono forse proprio da lì. Si è fatta la moneta unica, ma non c'è stato un governo unitario dei processi. E questo ha determinato una concorrenza tra gli Stati e quello che oggi credo ognuno di noi sconta è una concorrenza che spesso si determina anche tra le lavoratrici e tra i lavoratori. E il paradosso è proprio questo, che non c'è mai stata tanta gente come oggi che per vivere ha bisogno di lavorare, ma il mondo del lavoro non è mai stato tanto diviso, frantumato e contrapposto come oggi. Così credo è in Italia, così è secondo noi anche in Europa e nel mondo. Sono troppe le diseguaglianze. Questo è il punto. Abbiamo bisogno di combattere le diseguaglianze per affermare la democrazia. E per questo serve una politica industriale europea, non le delocalizzazioni come è venuto adesso. Serve un sistema fiscale vero europeo e non il dumping fiscale come è avvenuto adesso. Serve diritti nel lavoro, il diritto alla formazione, non la libertà di licenziamento, non la deregolamentazione del mercato del lavoro. Servirebbe un social compact, uno Stato sociale che si estende a tutti e non il fiscal compact. Servirebbe ridurre gli orari e non aumentare gli orari di lavoro. Serve tagliare le unghie alla finanza e rilanciare il ruolo pubblico degli investimenti per avere un'idea anche di nuovo modello di sviluppo. Un modello di sviluppo ambientalmente sostenibile non lo si costruisce se si lasse a fare al mercato, se non c'è un ruolo del pubblico, se non c'è un ruolo diretto delle lavoratrici e dei lavoratori. E del resto i bassi salari, la precarietà, la rabbia sociale, la solitudine che le persone che lavorano vivono spesso sono frutto anche di questi processi e cioè di un sistema di accumulazione della ricchezza che ha prodotto le diseguaglianze che anche noi stiamo vivendo. Del resto la banca centrale lo dice in modo molto chiaro, se si conteggia anche la sottooccupazione il livello di disoccupazione è il 18%, non una riduzione dell'occupazione. E ieri Juncker qui ci ricordava che suo padre era un operaio. Io credo che il problema non sia ricordarci di chi siamo figli, forse qua tanti siamo figli di operai. Il punto è cosa facciamo ognuno di noi oggi e cosa facciamo noi per i nostri figli e per quelli che verranno domani. E siccome domenica si vota, certo c'è bisogno di dare più Parlamento al potere, ma dobbiamo dire anche con chiarezza che bisogna superare l'austerità, che non possiamo tornare a piccole patrie, che c'è bisogno di una riforma anche delle istituzioni europee. L'obiettivo deve diventare la piena e buona occupazione, non semplicemente la riduzione dell'inflazione. E dobbiamo essere consapevoli, visto che siamo un sindacato, di qual è il nostro ruolo che possiamo giocare. E io lo dico per l'organizzazione che rappresento, ma essendo in un congresso così importante, in un'occasione così importante, in una settimana così decisiva per il nostro futuro, io credo noi dobbiamo fare una riflessione vera. Così come siamo organizzati, così come funzioniamo, siamo in grado di cambiare questo processo, di svolgere fino in fondo un ruolo che ridia peso e senso al lavoro dipendente come soggetto. Non esiste una democrazia che non sia fondata sulla libertà nel lavoro, sulla dignità del lavoro e sul ruolo che le lavoratrici e i lavoratori possono svolgere. Qui c'è anche un problema di ruolo della contrattazione, sì, sia in Italia che in Europa. Aumentare i salari, ridurre gli orari, significa anche affermare una politica contrattuale comune che superi la competizione e le delocalizzazioni che oggi ci sono. E serve anche una visione unitaria in questa direzione. Noi in Italia stiamo provando a misurarci con questo problema, abbiamo a che fare con un pessimo governo, siamo di fronte a processi molto difficili e credo che sia un dato che avviene dappertutto. Si vota domenica ma tante persone iscritte ai nostri sindacati in tutto il mondo votano anche per forze politiche che a noi non piacciono perché spesso non si riconoscono nelle cose che in Europa abbiamo fatto. E noi allora abbiamo bisogno di coerenza, di recuperare un rapporto con queste persone e di indicare degli obiettivi comuni. Il ruolo dei contratti e della contrattazione credo che sia un punto decisivo per unire i lavoratori, così come un'idea vera di unità sindacale. Noi ci stiamo mobilitando nel nostro Paese. Il mese di giugno in Italia sarà un mese in cui ci sono tante mobilitazioni dei lavoratori pubblici, dei lavoratori dell'industria, di CGL e Cislewil assieme proprio perché cambiamo un cambiamento delle politiche in Italia. Ma ci rendiamo conto che se non c'è una dimensione europea, se non cambia, nessun Paese da solo può farcela contro i cinesi, contro gli americani, contro una globalizzazione che sta mettendo in competizione con i lavoratori tra di loro. Allora dobbiamo anche ragionare su come funzioniamo noi e sulla necessità anche di un nostro cambiamento, non solo su quello che fanno gli altri. E in questa direzione, lo dico semplicemente come contributo, noi nel nostro Paese insieme a Cislewil abbiamo provato, oltre che a mobilitarci per cambiare le politiche, a fare anche un accordo con la Confindustria e con le nostre controparti. Perché pensiamo che in questa fase sia decisivo che anche le controparti assumono determinati obiettivi e determinati lavori. Il mercato da solo non risolve questi problemi e quindi unire le persone e unire i luoghi deve essere un obiettivo condiviso. Così come estendere la rete di solidarietà, lo Stato sociale, le tutele ai lavoratori, così come rafforzare il dialogo sociale e la contrattazione intesa come mediazione tra diversi interessi. Insisto su questo punto. Oggi noi non abbiamo solo da difendere i diritti. Noi oggi abbiamo bisogno di una discussione che entri nel merito di che cosa si produce, perché lo si produce, con quale sostenibilità ambientale e anche con quale giustizia sociale. Non c'è solo la produzione, diciamo così, classica di fare delle macchine o di fare dei mezzi. C'è anche una produzione sociale, c'è anche l'infrastruttura sociale, i bisogni delle persone, i diritti delle persone, il diritto alla conoscenza, il diritto allo studio. Noi parliamo che tutti assieme non vogliamo tornare negli errori che in Europa ci sono stati. L'Europa nasce perché abbiamo sconfitto il fascismo e il nazismo e se oggi noi non vogliamo tornare in quella prospettiva abbiamo bisogno di ricostruire una memoria, ma abbiamo bisogno che la democrazia si fondi sulla partecipazione attiva delle lavoratrici e dei lavoratori. E il lavoro si deve qualificare perché, diciamocela con chiarezza, un lavoro che non ha diritti, che non dà dignità a chi lo fa, non è un lavoro, crea solo rabbia, crea solo frustrazione e apre solo lo spazio alle destre, non a un'altra soluzione. E allora c'è anche il problema di cosa facciamo noi. Se così come siamo organizzati funzioniamo, e lo dico con onestà, a partire dall'organizzazione che rappresento, non siamo qui a dare lezioni a nessuno, siamo qui a dire che tutti insieme abbiamo bisogno di cambiare e di porci il problema di che cosa significa oggi avere un sindacato che sia un soggetto di trasformazione sociale in grado di costruire davvero un'Europa sociale. E allora abbiamo bisogno di parlarci di più, abbiamo bisogno di assumere obiettivi comuni e abbiamo bisogno anche di riconoscere i limiti e gli errori della nostra azione senza i quali non si produce un cambiamento concreto. E questa credo che sia la battaglia da fare, non solo andare a votare domenica, ma essere in grado da lunedì, di mettere in campo in tutta Europa un'azione comune e contrattuale che metta al centro il lavoro, la lotta alla precarietà e l'aumento dei salari dei lavoratori. Perché questi sono i punti di fondo. Grazie.